Maria Pia Giuliani, a fianco Francesco Tallarini e Angelo Caliciotti abbasseranno la bandierina scacchi del via alla prima edizione del Memorial Davide Giuliani, prima prova del trofeo anniversario 150 anni, unità d'Italia, 65 chilometri, circuito di 7 chilometri e 200 metri da ripetere 9 volte Sportivi applausi Prova Prova Gira la conclusione, si sta per esaurire il primo dei nuovi passaggi sotto il traguardo arrivo compreso, siamo a 150 metri dalla leggera curva a destra che immette a rettino di arrivo a Gildo Mascitti, direttore di corsa e Daniele Giuliani a bordo della macchina del direttore di corsa, forza ragazzi, 8 giri alla conclusione, l'applauso degli sportivi, la Sani Team LC davanti a condurre, tempo sul giro, 10 minuti e 5 secondi, 10.05 a concludere il primo giro la prima delle 9 tornate in programma, la Sani Team LC ha risalito alle prime posizioni del plotone per iniziare a fare ritmo, ecco un atleta a 28 secondi di ritardo, 7 giri alla conclusione ancora gruppo compatto la macchina della direzione di corsa, le motosaffette del gruppo sportivo Pestella di Roma scorte tecniche, anticipa il gruppo compatto, attenzione a questa accelerazione sono stati percorsi poco più di 20 chilometri attenzione, il gruppo si sta allungando, 6 giri alla conclusione, tempo generale 30 minuti 18 secondi, attenzione all'atleta, numero 115 Francesco, Francesco Baldi, Francesco Baldi, Pianureldo Visconti 10 secondi, 10 secondi, il vantaggio del battistrada Alessio Magon, classe 1995, allievo di secondo anno, siamo a 5 giri dalla conclusione Alessio Magon, eccolo, applausi all'atleta di Pontinia Guazzoni Nicolatti passa a Bortolo Alessio Magon, controlla il ritorno ovviamente del gruppo 40 minuti e 23 secondi attenzione c'è un quintetto, ne ho manscoperta a 4 giri dalla conclusione, controllano i 5 battistrada la posizione del gruppo, nulla da fare gruppo compatto, a 4 giri dalla conclusione tempo generale 50 minuti e 23 secondi azione annullata dalla 7 tg e anche dai portacolori Sannino il più attivo a dare impulso al tentativo di fuga promosso All'inizio della sesta tornata mancano tre tornate alla conclusione, 600 metri al passaggio, un'ora di gara in questo momento, la macchina della direzione di corsa con Agildo Mascitti e Daniele Giuliani precede il passaggio della coppia al comando, una coppia di marca napoletana con un campione italiano di cicocross e un conterraneo Antonio Greco della provincia di Napoli, forza ragazzi, tre giri alla conclusione, un'ora e 25 secondi, attenzione al gruppo Sanglin Team LC, 9 secondi, 9 secondi. Gruppo compatto, Guazzoli Nicolatti a recuperare le posizioni nell'avanguardia del gruppo, forza ragazzi, 14 chilometri e 400 metri all'arrivo e anche la Sanglin Team LC con Daniele Marcellusi. Daniele Marcellusi e Andrea Miatt, prima e seconda, a guidare il gruppo compatto. Signore e signori, la vostra attenzione, il vostro tibuto, i vostri applausi all'atleta napoletano Simone Perna e al gruppo compatto che stanno per iniziare l'ultimo giro. Simone Perna, un'ora 21 e 40, attenzione, in ritardo, 8 secondi ragazzi, 8 secondi. 8 secondi, 8 secondi, il ritardo del gruppo nei confronti dell'atleta stradista, nonché ciclocrossista Simone Perna. 800 metri al termine, le maglie della Bevilacqua Sport Pescara, formazione abruzzese che sta cercando di alzare il ritmo. Preludio, ha un arrivo a ranghi compatti sulle strade di Frasso. 300 metri al passaggio, entriamo nel vivo dell'arrivo. 150 metri, 150 metri, lanciato lo sprint, lanciato lo sprint ed è una maglia a Guazzolini. Marcellusi, 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 Daniel, vittoria e campione provinciale di Latina, vittoria e campione provinciale di Latina. Seconda vittoria stagionale, una volata lanciata alla perfezione, una volata lanciata alla perfezione dalla sua squadra. La sagra in team LC, Nemo, profeta in patria, sulle strade di casa, sulle strade della formazione di casa. Al momento vi possiamo dare in via ufficiosa, in via non ufficiale, il secondo posto di Emanuele Onesti, il terzo di Alessio Magon.